A distanza di qualche giorno dalla sua intervista a Belve, Melissa Satta ha fatto chiarezza via social. La showgirl era stata ospite del programma di Francesca Fagnani su Rai 2 nella puntata andata in onda il 24 ottobre scorso. Melissa, in quell'occasione, aveva parlato della sua situazione sentimentale, vissuta con il tennista Matteo Berrettini, ma aveva anche lanciato una stoccata alla conduttrice Paola Ferrari e non solo. Nella chiacchierata con Francesca Fagnani, Melissa Satta aveva parlato anche di Elisabetta Canalis. Affrontando il discorso della presunta rivalità tra le due, la showgirl aveva spiegato di non essersi mai sentita in competizione con la Canalis in quanto, a detta sua, facevano parte di due generazioni di parole, queste, che avevano, in primo luogo, suscitato una risposta da parte di Elisabetta Canalis. A distanza di qualche giorno, Melissa Satta ha voluto fare chiarezza su quanto detto, attraverso le sue storie Instagram. Grazie per tutti i commenti positivi. Sono andata a belve dalla Fagnani consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso. Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumenti. Esempio. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis. Ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato striscia la notizia. Ma va bene così. Ho risposto con ironia. Ho detto che la Elie ha qualche anno in più di me e non è un'offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima. Perché lo è veramente. Non create quindi pettegolezzo su una cosa.